Passiamo all'ultima interrogazione, assegnazione anche all'ex-scalo ferrodiario. Questa interrogazione era per del buon attenzione dell'amministrazione comunale che c'è questo locale, l'ex-scalo ferrodiario, che è stata assegnata dall'aggiunta precedente alla situazione del pensiero. Questa selezione ha presentato un progetto per la valutazione parziale dell'area alla sostenibilità dei rivoluzionari e la sorprendenza non rilascia il paretto di competenza perché è una parte dell'immobile, è tutta un po' di messa a farlo e non è scusato. Quindi volevo chiedere all'amministrazione comunale perché non è stata parte della vostra nuova e poi sta parte dell'area. E uno dei problemi che è stato presentato all'inizio è che tutto quello non si può procedere alla sostenibilità perché c'è una particella piena di proprietà o dell'amministrazione o della sostenibilità. Allora qual è la questione? Che domande fatte alla sorprendenza sono state iniziate da questi elementi della propria. In realtà abbiamo il porto che con la propria. Qui non è proprietà, le non, le mettiamo sta e per mettere nessuna sostenibilità. Purtroppo ti si innespa a questione che ho già detto, per la sostituzione responsabile del confincio. Il campo che avrà di risolvere il servizio di armi come responsabile dopo che non c'era ancora questa questione. Sicuramente se non mese, nel prossimo momento non si risolte il problema, ripresenteremo l'interrogazione. Grazie consigliere. Grazie, grazie per averlo. Le interrogazioni sono terminate. La senuta consigliare è sciolta. Il riscontrato che è stato fatto, io non condivido come è stato fatto il contratto, per quali ragioni. E' stato fatto il contratto che è rimasto fuori l'utilizzo del verabili, ma ho pareto il positivo di una cosa. Io intendo che la domanda, non parte la sovrintendenza, ma parte la sovrintendenza, prima che il contratto per il carico, per il corpo, facendo la domanda giusta. Allora, c'è questo contratto, la destinazione del mare che si trova. Ci rilasce l'autorizzazione da una ossa affinché queste cose si possono fare, a fronte di questo rostro, nel caso di SES, ci vediamo la partita. Non di SES, cercheremo di capire perché oggi non c'è, quindi avremo modo di approfondire. e quindi avremo modo di approfondire. e quindi avremo modo di approfondire.